Il loro sogno è di diventare campioni italiani e sentono di avere tutte le carte in regola per poterlo trasformare in realtà. Sono ormai pronti i ragazzi del Payball Piacenza, questa domenica saranno in scena ad Arezzo per la finalissima di Coppa Italia nella categoria 3-man. La squadra piacentina si è qualificata all'atto conclusivo conquistando il quinto posto nel raggruppamento del centro-nord, ma non basta. Adesso vuole la tanto desiderata Coppa che significherebbe titolo nazionale. Per prepararsi al meglio, i ragazzi guidati da Capitan Claudio Campioni si sono allenati nella sede di Pieve Dugliara contro i Mad Monkey di Cuneo, in una serie di test 3 contro 3 che hanno visto impegnati tutti gli effettivi. Siamo finalisti della Coppa Italia ad Arezzo, dove si scontreranno le 8 migliori squadre del nord contro le 8 migliori squadre del sud, dove l'obiettivo sarà essere la squadra campione del campionato 3-man italiano. A Arezzo ci sarà la squadra gran completo, Capitan Campioni, le due atlete della nazionale Chiara Pizzasegole e Federica Salvatori, Elia Rancan, Ronny Kumball, Alessio Diglie, Mattia Girolamo e Maria Carmelino Flumeri.